Benvenuti al nostro TG. Cari amici di Telemolisse, in apertura parliamo della diciannovesima edizione della Corrisernia. Grande soddisfazione per l'ANAI e per tutto lo staff organizzativo che ancora una volta si è dimostrato assolutamente all'altezza. La Corrisernia continua a sorprendere nello spettacolo e nei numeri tanto dei partecipanti quanto del pubblico presente per la soddisfazione dell'ANAI, società organizzatrice. La competizione riservata agli istituti scolastici ha fatto registrare ancora una volta numeri da record con circa 2000 partenti, numeri da fare invidia in realtà più grandi. Oramai la passeggiata che coinvolge studenti, genitori e insegnanti è nel DNA della città e inizia a fare seguaci anche presso gli istituti scolastici della provincia. Per la competitiva di 9 km il podio femminile è stato tutto molisano con l'antleta di casa Yolanda Ferritti della Freerunner che ha preceduto Gabriella Di Bernardo dell'Atletica Isernia e Anna Bornaschella dell'Atletica Venafro. Per il podio maschile il giovane Andrea Saffieri in forza all'Atletica Venafro si è imposto su Piero Mignogna, Raffaele e Mattiello. Nell'americana gara d'eliminazione Arese, Boi, Tamassia, Riva, Selvarolo solo per citarne alcuni si sono dati battaglie in una gara del contenuto tecnico elevatissimo. A spuntarla in uno sprint mozzafiato l'atleta delle fiamme gialle Beniamino del pubblico molisano Yasin Bui che ha avuto la meglio su Pietro Arese e Ahmed Ouda. La gara intensa anche per il miglio Rosa Giulia Aprile, portacolori del GS Esercito, ha messo la propria firma su questa seconda edizione che ha visto il percorso del miglio per la prima volta omologato su strada. Alle sue spalle a sorpresa ma per la gioia del pubblico di casa si è piazzata Letizia Di Lisa del GS Virtus Campobasso seguita da Joyce Mattigliano. Mentre cale il sipario sulla diciannovesima edizione della quale restano le immagini dei bampini festanti che con le loro magliette rosse hanno colorato le principali vie della città, lo staff è già proiettato all'edizione numero 20. Adesso il calcio di Serie D. Serie D, Girone F, Campobasso L'Aquila 2 a 3, Chiedi, Senigallia 2 a 0, Matese, Atletico Ascoli 2 a 0, Monte Rotondo, Fossombrone 0 a 1, Notaresco, Tivoli 3 a 0, Riccione, Sora 1 a 2, San Benedettese, Fano 0 a 0, Termoli, Roma City 2 a 4, Passo Girardi, Avezzano 1 a 5. Vediamo la classifica, 10 punti per il Chiedi, 8 punti Avezzano e San Benedettese, 7 punti per il Campobasso, Senigallia, Fossombrone, 6 punti per Roma City, Aquila, Riccione, Sora e Tivoli, 5 punti per il Fano, 4 punti per Notaresco e Basso Girardi, 3 punti per il Termoli, Matese, Monte Rotondo, 2 punti per l'Atletico Ascoli. Davanti a circa 3.000 tifosi, il Campobasso ha subito la prima sconfitta stagionale per mano dell'Aquila. Grande entusiasmo a Selvapiana per la venuta da oltreoceano del presidente Matt Rizzetta insieme ad altri due soci rosso-blu, Patrick Ciovan e Gardner Elner. Prima della gara il pubblico numeroso della Nord Scorrano offre un omaggio floreale al presidente, che poi stende una bandiera rosso-blu insieme ai suoi collaboratori e la mostra alla curva. Momente di alta condivisione a Selvapiana. Terminerà sul campo 3-2 per l'Aquila di Massimo Epifani. Il Campobasso, dopo un ottimo primo tempo, cala nella ripresa sia fisicamente che nell'attenzione. Gli ospiti ne approfittano e rifilano un 1-2 fatale. Pubblico ingente, oltre 3.000 i presenti in un clima di grande festa. Circa 100 i tifosi ospiti, equilibrio dominante fino al sedicesimo quando ad aprire le danze è il Campobasso. Angolo di Corvino, girata aerea di Ricamato, palla che bacia il palo e si insacca. Tripudio della Nord Scorrano e del numeroso pubblico presente. Qui la gara si apre e regala emozioni ravvicinate. Prima con il tiro di Corvino del minuto numero 22 di un soffio a lato. Poi, un minuto più tardi, si crea un buco vistoso nella difesa di casa. Ne approfitta Banegas che si inserisce e batte esposito. Sinistro preciso in fondo al sacco. E Campobasso 1, l'Aquila 1, ma la reazione dei padroni di casa è rabbiosa. Ventiquattresimo Corvino trova uno spazio per calciare, ma Michielin compie una gran parata sulla respinta. Nonni viene chiuso in angolo dalla bandierina. Poi, il pallone di Corvino diventa saponetta per Michielin. Gonzales è lì e deve solo appoggiare in rete il nuovo vantaggio. Succede moltissimo ed in poco tempo Servapiana festeggia il nuovo gol. Ma lo scorre potrebbe essere accresciuto al 33esimo da un sinistro di Maldonado che forse avrebbe meritato miglior destino. 37esimo Corvino da fermo, Michielin si deve riparare in angolo. Minuto 45, sinistro innocuo di Angiulli. Palla fuori, Campobasso con merito avanti a fine primo tempo. Poco pericolosa la squadra di Epifani. Immagini di Giovanni Orefice, ospiti ad un passo dal pareggio al quarto della ripresa quando Bellardinelli non vede la porta. Questione di pochi metri su angolo di Bacio Terracino. Mosconi cambia gli esterni. Dal sesto fuori Mengani dentro Tarcinale. All'undicesimo Tordella crossa da destra e rompe Di Nardo. Il portiere Parama, la punta di casa era in fuorigioco. Al tredicesimo incursione a destra di Tarcinale. Palla al centro dove Bellardinelli spazza dalla linea di porta. Epifani getta nella mischia l'ex Jonathan Alessandro dal quarto d'ora al posto di Bacio Terracino. Al diciassettesimo un pallone perso dal campo basso da Tordella. Costa carissimo con Angiulli che smista la sfera da sinistra. Al centro arriva Galesio che sigla il 2-2. Troppo fermo Gonzales nella circostanza che chiede un fuorigioco del marcatore avversario. Gli spettri di Ascoli si materializzano al ventesimo quando gli Aquilani mettono la freccia. Pallone apparecchiato da Banegas. Torre di Galesio per il tiro di Uali. Un bel gol. Il Tris ospite. Siamo ora a campo basso 2. L'Aquila 3. Si spegne la luce in casa Rosso Blu. Mosconi gioca il tutto per tutto. Dalla mezz'ora dentro Ripa per Gonzales. Pontillo per Lombari. Nell'Aquila si fa male. Il neo è entrato Alessandro che deve essere sostituito da Alessandretti. Mosconi aumenta gli attaccanti. Dentro Abreu per Ricamato. il Rassi per Di Nardo. Formazione di casa all'attacco ma che calcia poco in porta. Anzi al 91esimo Tavoni divora tutta la fascia sinistra del campo basso. Mette al centro dove Banegas viene chiuso da Nonni. Al 94esimo punizione di Corvino. Colpisce proprio Nonni. Michelin toglie il pallone dalla disponibilità di Bonacchi. Il campo basso reitera le amnesie commesse ad Ascoli e perde in casa. Di contro l'Aquila interrompe la crisi di risultati e guarda al futuro con maggiore serenità. Niente da fare anche per il Termoli. Seconda sconfitta consecutiva per i Giallorossi. Questa volta Alcannarza contro il Roma City. Sconfitta casalinga per il Termoli che deve cedere le armi al Roma City che arriva in basso Molise con gli stessi punti dai Giallorossi però alla fine e uscirà vincente sul rettangolo del Gino Cannarsa 4-2 il bottino per la compagine naziale che inizia a forza 7 il confronto partendo subito a sprombattuto. Quarto minuto di gioco l'inserimento sulla corsia di destra da parte del Mastro che chiede e ottiene il triangolo. La conclusione del numero 2 con Lombardo che con i pugni nuti riesce a ribattere la conclusione. Gelonese in profondità nono minuto pesca del Mastro che arriva in arre di rigore quattro passi conclusione vincente sul secondo palo dove Lombardo non può arrivare perde leggermente i sensi il giocatore che poi verrà anche sostituito ma Roma City in avanti per 1-0 la risposta al Termoli sulla punizione disegnata da Esposito innocua che si spegne sul fondo al tredicesimo diciassettesimo la lunghissima rimessa laterale con Gelonese che trova la girata una semirovesciata con Lombardo che si deve distendere volare soprattutto per deviare la sfera in calcio d'angolo Termoli che in partita cerca di farsi vedere prima della mezz'ora 29esimo Esposito mette in mezzo per Bentos che entra di forza in area piccola la sua conclusione che viene deviata in calcio d'angolo da Muraka che riesce a salvarsi 31esimo pericolosissima la formazione ospite con un passaggio in verticale in avanti per Di Renzo l'attaccante trova lo spazio trova anche la conclusione che però termina di un niente sul fondo dando l'impressione anche di poter sbloccare il confronto nel finale del primo tempo c'è Esposito che va a recuperare dopo un rimballo un ottimo pallone arriva in area di rigore con la solita serpentina mette in mezzo il pallone ma Muraka si salva e poi è bravissimo ad andare a chiudere sul secondo palo Bandera Diniz che riesce ad allontanare il pallone con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa tra i giri di lancette e sul cross lungo in profondità dalla destra arriva la testa vincente da parte di Scognamiglio che scarica in fondo al sacco il gol del 2 a 0 mettendo praticamente in ginocchio il Termoli che crollerà esattamente un minuto più tardi l'azione parte sempre dalla destra con Bandera Diniz che mette in mezzo la palla gestita da Pellegrino che salta un avversario e poi fulmina con il destro dalla lunetta il nuovo entrato in porta Saracino ed è il gol del 3 a 0 per la compagine laziale Termoli che non riesce a scrollarsi dosso ogni timore reverenziale prova a farsi vedere la formazione adriatica esposito in palleggio esattamente al 22esimo la sua conclusione che termina di un niente sul fondo al 20esimo in profondità il lungo lancio per lo scatto in avanti di Sparacello che si presenta a tu per tu con Saracino e sull'uscita del portiere di Caserta lo fredda per il gol del 4 a 0 sembra finita dovrebbe essere finita ma il Termoli ha una grande reazione d'orgoglio nelle battute finali del confronto ma c'è prima lo spazio per cercare ancora un'impennata per il Roma City con un inserimento in area di rigore di forza da parte del giocatore con la casacca numero da poco in campo Ascoli entrato nel primo tempo Ascoli casacca numero 16 la conclusione che viene ribattuta da Saracino il Termoli la reazione di orgoglio negli ultimi 20 minuti costruisce Maiorino il cross dal vincente per la testa del nuovo entrato Uzzol che fa 4 a 1 si abbassa molto il Roma City il Termoli macina gioco e qui Cagliazza prova la fiondata ed è vincente perché nulla può è un grandissimo gol quello per Aldo Cagliazza nulla può il portiere Muraca nel finale solo e soltanto Termoli la gran parata di Muraca nel primo tentativo e poi arriva anche la rovesciata da parte del capitano dei giallorossi Sicignano che però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta finisce con la delusione ma con la vittoria del Roma City che batte il calcio Termoli 1920 4 a 2 Amara sconfitta per il vasto Girardi che Alditella ha perso 5 a 1 contro l'Avezzano il gioco all'italiana premia l'impenetrabile Avezzano partita difficile con avversari ben organizzati una partita inizialmente fisica che non ha perdonato le ingenuità dei padroni di casa minuto 5 il tiro di Golia è alto sulla traversa risponde Salatino sporca l'azione Cultraro con il guantone destro Caon non inquadra al settimo crossando Giovanni nessuna difficoltà per il portiere abruzzese ed ancora ci prova Caon parata al diciottesimo la punizione battuta da Capitano Ruggeri supera la barriera e per un soffio finisce sul fondo al ventitresimo palla lunga per De Silvestro che stoppa si gira e fredda Caravano per lo 0 a 1 minuto 26 De Silvestro allunga per Roberti palla che termina d'Urtolani l'azione si chiude con un nulla di fatto sul piano tattico tecnico e mentale l'avversario non lascia scampo il duo De Silvestro e Roberti schiacciano in una morsa e giallo-blu eccoli all'opera al ventottesimo pronti ad insaccare il secondo gol al trentasettesimo si fa vedere il vasto Girardi con Ceccuzzi che potrebbe rendersi pericoloso nulla di fatto il secondo tempo sembra aprirsi con un recupero casalingo calcio da fermo di Ruggeri Coltraro rispinge sui piedi di Visani che realizza il gol della bandiera il vasto Girardi accorcia le distanze e recupera mentalmente tant'è che dopo pochi minuti Ando Giovanni mette in mezzo scivola Caon è Ferrara a gonfiare la rete il signor tropiano della sezione di Bari non convalida il gol del pareggio per fuori gioco è una gioia durata pochissimo al dodicesimo cross in area di testa Ortolani segna l'uno a tre è un Avezzano che detta legge e che non perdona ogni qual volta arriva in prossimità dell'aria corre il ventinovesimo cambio di casacca entra Bolo che si fionda come un falco sulla porta e spegne gli animi del Ditella vasto Girardi uno Avezzano quattro al trentaquattresimo deviazione corner salatino dalla bandierina pesca la testa di Jacullo la palla bacia il palo ma non entra e questa volta la rendevolezza degli altomolisani permette agli abruzzesi di far segnare sul taccuino il quinto gol di Golia lasciato libero di agire il vasto Girardi ha subito entrando in un loop a ciclo chiuso e ripetitivo area di festa invece a piedi monte Matese la formazione di mister Corrado Urbano ha portato a casa i primi tre punti stagionali il Matese batte al Ferrante l'atletico Ascoli e toglie lo zero dalla casella dei punti in classifica i marchigiani dopo aver imposto il pari al campo basso nello scorso turno hanno ceduto le armi sul sintetico di Piedimonte Matese grande approccio per gli uomini di Urbano dopo quattro minuti subito in vantaggio azione di rimessa con Napoletano che rifinisce per la corrente Minasi che incrocia il tiro e batte il portiere ospite Pompei reazione del portodascoli da calcio d'angolo marchigiani pericolosi con D'Alessandro che anticipa tutti ma non c'entra il bersaglio grosso occasione Matese con punizione dalla trequarti Gomis però non riesce a dare forza al pallone bloccato dal portiere ospite marchigiani vicino al pareggio con Olivieri tiro cross velenoso ma è attento Palombo fine primo tempo con i verdi in vantaggio si riparte nella ripresa con una grande occasione per l'atletico cross dalla destra di D'Alessandro che imbecca Traini sul secondo palo e chiama gli straordinari Palombo episodio da Moviola nell'area marchigiana con Napoletano che si allaccia con Sabatini per l'arbitro tutto regolare poco male perché su disimpegno sbagliato dello stesso Sabatini arriva il 2-0 che mette al sicuro il risultato è Napoletano da approfittare dell'errore si invola verso la porta avversaria e trafigge l'estremo difensore Ascolano fino al termine del match poco da segnalare se non il pallo colpito da Olivieri Matese che nel prossimo turno viaggerà alla volta di Tivoli per cercare di dare continuità all'ottima vittoria di quest'oggi adesso il basket femminile di serie A1 basket di serie A1 femminile San Martino di Lupari Repower Stanga Milano 82 a 68 Battipaglia Venezia 52 85 Ragusa Bologna 67 a 73 Dinamo Sassari La Molisana Magnolia 57 a 79 Brixia Basket Faenza 61 a 55 Schio Sesso San Giovanni 81 43 Vediamo la classifica 2 punti per Schio Venezia La Molisana Magnolia San Martino di Lupari Bologna e Brixia Basket 0 punti per Roma Basket Ragusa Faenza Milano Dinamo Sassari Battipaglia e Sesso San Giovanni La Molisana Magnolia a Campobasso ha deputato con il successo per 79 a 57 sul Sassari nell'opening day di Schio Esordio molto positivo della Magnolia Molisana Basket Campobasso che si è imposta con il punteggio netto di 79 a 57 contro la Dinamo Sassari nell'opening day del campionato di serie A1 che quest'anno si è tenuto a Schio in provincia di Vicenza 14 a 18 30 38 45 a 49 questi i tre parziali del match che hanno visto i fiori d'acciaio sempre avanti nel punteggio fino a chiudere con il vantaggio di 22 punti come dicevamo 79 a 57 6 punti per Trimboli 16 per Morrison Dedic 13 per la Misti Nova 14 per la Kunai questi alcuni dei punteggi più rilevanti delle Magnolie grande soddisfazione espressa dal coach Mimmo Sabatelli per l'ottimo debutto in campionato abbiamo dato vita ha detto il mister ad una prestazione incredibile con un'intensità clamorosa sia in attacco che in difesa il coach della Magnolia ha anche aggiunto che si è trattato di una vittoria meritata frutto di un grandissimo lavoro delle ragazze per le rosso-blu ritorno all'arena domenica 8 ottobre con palla 2 alle 18 in Molise arriverà l'Oxygen Roma che è appena salita in serie A1 squadra guidata dall'ex assistant coach Campobassano Vincenzo Di Meglio le romane hanno riposato in questo primo turno di campionato dalla loro le rosso-blu proveranno a difendere l'inviolabilità dell'impianto amico infatti non perdono a Selvapiana dall'8 gennaio scorso contro Venezia pallavolo di serie B è terminato con due sconfitte il percorso precampionato per l'Energy Time Spike Devils che al Gioia del Colle ha disputato un triangolare organizzato dal sestetto locale i molisani hanno chiuso al terzo posto in Puglia dopo aver perso 2 a 1 contro il Cuspari 2 a 0 contro il Gioia del Colle ora vediamo le grafiche di calcio a 5 serie A2 Elite calcio a 5 di serie A2 Elite Girone Bipoli Sportiva Futura Cus Molise 4 a 1 Roma Calcio a 5 Sicur Lab 3 a 2 Canosa Itria 5 a 2 Città di Medilli Sportiva Lazio 5 a 4 Manfredonia Giovinazzo 4 a 3 Cesena Benevento 4 a 5 Vediamo la classifica 3 punti per Canosa Polisportiva Futura Città di Melilli Benevento e Manfredoni e Roma calcio a 5 0 punti per Capurso Cesena Polisportiva Lazio Giovinazzo Sicur Lab Itri e Cus Molise Inizio di stagione complicato per il Cus Molise dopo la sconfitta in trasferta contro la Polisportiva Futura in Calabria i Rosso-Blu cercheranno di ripartire nel match contro il Canosa in programma il 14 ottobre Esordio Amaro in A2 Elite per il Cus Molise costretto ad ammainare bandiera bianca sul campo della Polisportiva Futura che vince 4 a 1 Andiamo con la cronaca Si vedono subito i calabresi con Cividini tiro a lato E poi Onorio a concludere verso la porta di Mazzaglia tiro deviato in angolo da Bocca Sul seguente corner recalciato da Onorio Minnella al volo deposita la sfera in rete per l'1-0 della Futura La squadra di casa trova il raddoppio poco più tardi ancora con Minnella abile a deviare un tiro dalla distanza di Cividini Futura 2 Cus Molise 0 I ragazzi di San Gennario cercano di reagire Qui Lez si mette in proprio e chiama la deviazione Parisi Rosso-Blu ancora pericolosi con Denisco che tenta la deviazione di prima sul rilancio di Mazzaglia palla alta sulla traversa La Futura torna a farsi vedere in fase offensiva con Pannuti che va via in slalom e conclude a lato E poi Modafferi per i locali a calciare di prima palla alta Stessa sorte tocca al tiro di Pizzetta assistito da Onorio Dopo una conclusione fuori bersaglio di Cividini è Dilisio a provarci per il Cus La sua botta al volo si spegne a lato non di molto Prima del riposo la Futura cala il tris Onorio costruisce a sinistra e mette al centro dove Minnella realizza la sua tripletta personale Sul 3-0 per i locali si va negli spogliatoi Al ritorno in campo è Cividini ad impegnare subito Mazzaglia che blocca Grande chance per i padroni di casa poco dopo Minnella serve Onorio che salta anche Mazzaglia Turek si immola sulla linea e salva il Cus dalla capitolazione Lo stesso numero 15 prova a rendersi pericoloso in fase offensiva Ma il suo tiro non crea particolari problemi a Parisi Piove sul bagnato per gli ospiti Di Stefano commette fallo su Modafferi e viene espulso Cus costretto a due minuti di inferiorità numerica E proprio con l'uomo in più la Futura cala il poker Onorio mette al centro e proprio Modafferi supera ancora Mazzaglia Gli ospiti accorciano le distanze con il gioco a 5 E la conclusione precisa di Chilez che trova l'angolino Finisce 4-1 per la Futura Archiviati i primi 40 minuti di campionato Marteri e sabato il Cus Molise sarà impegnato in Coppa Divisione Under 23 Il 14 ottobre poi ci sarà l'esordio casalingo in campionato Contro il Canosa di Mister Tavone e dell'ex La Bella Sempre per il Futsal domani il Cus Molise scenderà in campo Per la prima gara della Coppa Divisione contro il Latina In Serie B i ragazzi dello Sporting Campobasso Potranno lavorare agli ordini di coach Pietrunti Ancora per due settimane prima dell'esordio in campionato Per il Rosso Blu il torneo inizierà il 14 ottobre Alla Palestra Sturzo contro il Sulmona Adesso torniamo a parlare di calcio con le partite Con i risultati dell'eccellenza Campionato di eccellenza Alto Casertano San Pietro in Valle 5-2 Boiano Sesto Campano 1-1 Campomarino Guglionesi 1-1 Termoli 2016 Cliternina 0-3 Fortore Turris 0-0 Isernia Ripalimosani 5-0 Limpiagnonese Castel di Sangro 0-1 Venafro Gioiese 5-1 Vediamo la classifica 12 punti per Isernia e Alto Casertano 9 punti per Venafro e Castel di Sangro 7 punti per Guglionesi, Fortore e Turris 6 punti per Gioiese 4 punti per Sesto Campano e Boiano 3 punti per Olimpia Agnonese, San Pietro in Valle Cliternina, Ripalimosani, Termoli 2016 1 punti per Campomarino Al Dianni di Cerro al Volturno è andato in scena il match tra Isernia e Ripalimosani Biancocelesti dopo il secco 5-0 si sono confermati ai vertici della graduatoria Non vuol fermarsi la città di Isernia al Dianni contro il Ripalimosani che è riuscito a sbloccarsi in campionato nello scorso turno contro l'Olimpia Agnonese La squadra di Bentivoglio prima di battere i Granata era secco di gol e punti Dopo aver perso con Aurora Alto Casertano e Fortore dirige il fischietto Livornese del signor Mariani I locali al sedicesimo iniziano a prendere le misure il destro di Monteduro Con il pallone largo al ventesimo Regner per la testa di Monteduro E Isernia passa a condurre sfruttando appieno il gioco aereo Minuto 27 La giocata in scioltezza di Scafa che se ne va sulla catena di destra Il tiro di Ricciardi, la deviazione di Valentino Dal corner il pallone nel mucchio Scudieri si scontra con Barile Calcio a Cristofaro, salva Valentino sulla linea di porta Il terzino Pentro prezioso anche nella fase offensiva Suo l'assista a Lopez, gran botta la sua sulla corsa Di Rienzo impietrito per il bis della Serpa Al trentacinquesimo Regner su calcio piazzato dal limite dell'area di rigore La testa di Monteduro Doppietta e terzo centro in due partite per il numero 6 dei Bianco Celesti Siamo ora sul 3 a 0 Minuto 39 Ricciardi Sul proponimento di De La Ventura Cocchiarella riesce ad opporsi 30 secondi più tardi ripa anche sfortunato con il palo colpito da Guglielmi A distanza ravvicinata 42 la leggerezza di Ricciardi che perde il pallone sulla pressione di Regner Il numero 7 commette un fallo giudicato da ultimo uomo e viene sanzionato con il rosso Da Mariani di Livorno ripesi in 10 e sotto di tre reti all'intervallo Nella ripresa al quinto Regner nei pressi dell'area Offre a Lopez il miracolo di Di Rienzo Che non può nulla Sulla seguente botta Dello stesso numero 7 Che cala il poker All'undicesimo il piazzato di Guglielmi Nessun problema per il portiere Cocchiarella Che accompagna con lo sguardo Al diciassettesimo Si chiude il triangolo tra Cascio e Soria Il numero 8 Trova la prontezza del neo entrato Todisco Al ventesimo di nuovo sugli scudi Todisco sulla testa di Febles Che voleva la gioia personale del gol 22 Il neo entrato tedeschi per il ripa Cocchiarella Con la mano di richiamo Concede il calcio d'angolo Al ventisettesimo C'è gloria anche per Giobbe Rasoterra in diagonale imprendibile Per il baby portiere giallo-blu E' parziale che si sposta sul 5-0 Alla mezz'ora Riecco gli ospiti con Musella Di nuovo l'opposizione del portiere locale Al trentaseiesimo Tedeschi Disegna per la testa di Galuppo Pallone che termina a lato 5-0 il definitivo Con l'Isernia che ritrova la vetta della classifica A pari merito con l'Aurora Alto Casertano E si prepara all'anticipo di sabato prossimo In casa del Castel di Sangro Cep Adesso i risultati del campionato di promozione Promozione quarta giornata Baranello-Morcone 2-0 Real Prata-Juvenes 1-1 Riccio-Altigliasamnium 7-0 Forulum-Trivento 0-1 Calena-Busto-Chaminad 1-1 Montenero-Aesernia 5-1 Torre Maggiore-Rocca-Ravindola 2-1 Vairano-Spinete 0-1 Vediamo la classifica 10 punti per Riccio e Montenero 9 punti per Vairano e Aesernia 8 punti per Baranello 7 punti per Real Prata e Torre Maggiore 6 punti per Spinete e Trivento 5 punti per Juvenes 4 punti per Calena 3 punti per Rocca-Ravindola Forulum-Morcone 1 punto per Busto-Chaminad 0 punti per Altigliasamnium Vediamo anche le grafiche della prima categoria Prima categoria Girone A Pietra Melara SS Campobasso 5-2 Pozzilli Mignano 3-1 Sant'Angelo Limosano Rufra e 2-1 San Giovanni Ingaldo Macchia Godenese 6-0 Alla Fidelis Tamaro 5-1 Mirabello Domenico Desisto 2-3 Volturnia Alife 0-3 Vediamo la classifica per il Girone A 6 punti per Alife e Domenico Desisto Sant'Angelo Limosano 4 punti per Ala Fidelis Pietra Melara 3 punti per Carmilione San Giovanni Ingaldo Pozzilli Rufra e 1 punto per Mignano SS Campobasso 0 punti per Volturnia Tamaro Mirabello Macchia Godenese Prima categoria Girone B Audac Storo Maronea 0-1 Guardia Alfiera Aurora Aururi 5-0 Castelmauro Porto Cannone 1-2 Frentania Pietra Montecorvino 2-2 Macchia Casali Dauni 5-2 Real Girdone Biccari 1-0 Rocca Vivara Angioina Colletorto 1-1 San Giorgio Gambatesa 6-0 Vediamo la classifica del Girone B 6 punti per Guardia Alfiera Porto Cannone Maronea 4 punti per Rocca Vivara Frentania Pietra Montecorvino 3 punti per San Giorgio Macchia Biccari Real Girdone 2 punti per Angioina Colletorto 1 punto per Audac Storo 0 punti Castelmauro Casali Dauni Aurora Aururi Gambatesa Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21.30 con Molise a Calci insieme a Gianni Bruno e Alessia Manocchio avremo ospiti, commenti, opinioni e naturalmente la nostra Moviola Molise a Calci alle 21.30 stasera sempre e solo su Tele Molise E' tutto, buon pomeriggio E' tutto, buon pomeriggio